Da alcune settimane è in funzione presso la farmacia ospedaliera di Vaio una nuova cella frigorifera. Vaio diventa il polo di stoccaggio dei vaccini anti-influenzali o di altri tipi di vaccini per far fronte alle grosse campagne vaccinali. Da poco tempo infatti in questa cella sono state stoccate oltre 100.000 dosi dei vari vaccini anti-influenzali. Oggi inauguriamo con piacere una infrastruttura tecnologica all'avanguardia di cui si è dotata azienda Usla qui nell'ospedale di Vaio. L'attrezzatura è concepita per aumentare la capacità di stoccaggio e distribuzione dei vaccini relativamente a tutte quelle che sono le esigenze di vaccinazione del territorio dell'azienda Asla di Parma. Inoltre la struttura è stata concepita nell'ambito del potenziamento della lotta alle pandemie, all'influenza, al piano generale di reazione cosiddetto Panflu ed è quindi un plus importante per l'azienda Usla. È una giornata importante per la nostra struttura di Fidenza, è un'implementazione di un ulteriore servizio che arricchisce la farmacia ma anche tutto il territorio perché permette anche di avere un rapporto diretto nella consegna dei farmaci rispetto ad una filiera quindi che si avvicina al territorio e alle nostre strutture. Quindi ritengo che sia un arracchimento particolarmente prezioso per tutta la nostra zona.